Siamo a Lignano Saviodoro per l'iniziativa didattica Young7 for Education. Ci troviamo al Lab Sport sulla spiaggia Bella Italia. Stiamo chiedendo ai ragazzi mostrateci cosa sapete fare in campo ma mostrateci anche cosa sapete fare in aula, dato che i ragazzi indossano una vettorina con dei sensori che registrano parecchi parametri nella loro attività, loro li studieranno e si cimenteranno nell'analisi di questi dati, quindi vincerà la squadra che maggiormente sarà performante in campo e in aula. I ragazzi sono tutti stramotivati a fare bene in campo ma questo già lo sapevamo ma si sono mostrati già da subito molto orientati interessati alla parte di sperimentazione in aula, quindi vedremo e vinca il milione. Siamo qua per il torneo di bici volley, io sono stato selezionato come giocatore appunto per giocare le finali nazionali tra le prime quattro degli studenteschi di settembre e quindi siamo qua per blocarci appunto al posto del bici volley. E in questi giorni ci siamo divertiti e sfidate sui campi da bici volley e infatti ci hanno anche detto più o meno come collegare questo sport che molti di noi praticano da un sacco di tempo con anche le tecnologie moderne e quindi abbiamo anche capito molte cose come sfruttare anche al meglio le nostre capacità.